Bentornati a tutti quanti in questo nostro appuntamento periodico su F1 in generale dove andiamo ad analizzare tutte quelle che sono le sessioni di un weekend di gara della Formula 1 partendo dal venerdì, sabato e la domenica. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno neanche uno di questi video visto che saranno sempre presenti e vi accompagneranno durante tutta la stagione del 2024. Siamo giunti alla fine di questo weekend di gara di Cina dove abbiamo visto per la prima volta una sprint race. In questo Gran Premio non è stato solamente un dominio Red Bull ma lo chiamerei di più un dominio Verstappen visto che comunque è riuscito a mettersi dietro di ben 20 secondi nonostante il safety car Sergio Perez il che non è affatto poco. Nonostante comunque il messicano si stia comportando molto 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 bene rispetto all'anno scorso anche sicuramente un'ottica del rinnovo del contratto. Gara in cui come praticamente in tutti quanti i weekend la FIA riesce a farmi arrabbiare con le loro mosse veramente senza senso tipo quella di non chiamare subito fuori una safety car o su una virtual safety car quando Bottas è uscito di pista visto che ha lasciato la macchina in una posizione pericolosissima. La federazione ha dovuto attendere veramente tanto tempo prima di mettere fuori una safety car lasciando Valtteri e tutti gli altri piloti in una situazione di pericolo immenso. Non so veramente quando fanno queste cose a cosa pensano, che gara stiano guardando. Gara che ha visto tanti piloti utilizzare tante strategie differenti, anche Fernando Alonso ha deciso di fermarsi una volta in più rispetto a tutti quanti gli altri come vediamo in questo grafico andando a mettere anche una gomma rossa. Strategia che poi alla fine non ha pagato visto che si è ritrovato in settima posizione alla fine della gara. Strategia che in fin dei conti poteva essere anche molto buona quella di Norris e Leclerc visto che hanno provato ad allungare comunque il primo stint cercando di conservare un po' di più la copertura per provare a fare una unica sosta. E che alla fine dei conti abbiamo visto che ha pagato e non poco. Rimane comunque un enorme problema da parte della scuderia di Maranello che è quello di riuscire a accendere, a mettere in temperatura subito le gomme. Inizialmente è stato visto in partenza che ok comunque hanno voluto loro essere un pochino più conservativi ma proprio nelle prime fasi di gara la loro vettura non si è comportata nel migliore dei modi facendosi passare sì da Russell ma anche da Hulkenberg. In partenza Leclerc ha provato una manovra di attacco su Sainz riuscita ma che magari ha fatto perdere ai due piloti un po' più di tempo. Poi avendo loro le gomme magari un po' più fredde rispetto agli altri si sono fatti comunque sfilare. Questo evidenzia ancora di più come sia importante il problema di Ferrari sull'andare a scaldare le gomme nelle prime fasi o di gara oppure nel giro di preparazione della qualifica. Più avanti nel video quando andremo ad analizzare i passi gara vi farò vedere perché di questa mia affermazione. Andando a vedere più nel dettaglio la classifica finale di questo Gran Premio vediamo come Alonso con la sua strategia di quattro soste non si è riuscito a performare e la sua strategia non l'ha fatto performare nel migliore dei modi. Vediamo anche una Ferrari giù dal podio per la prima volta in quattro gare cosa che sì fa storgere il naso però ce lo saremo aspettati perché questo qua sarebbe stato uno dei circuiti in cui Ferrari avrebbe dovuto soffrire di più. Un Gran Premio e quindi un risultato soprattutto in questo Gran Premio di Cina è stata la qualifica perché avere due tre decimi di differenza tra McLaren e Ferrari non è così tanto da poterti farti gridare al miracolo e quindi da farti stare anche tranquillo quando ti trovi in posizioni un pochino più arretrate in partenza come è successo in Cina. Una Ferrari che parte così indietro quando l'anno scorso aveva fatto una marea di prime file non va assolutamente bene perché non hai il passo gara di Red Bull non riusciresti comunque a passare una McLaren in un'ottima forma e quindi il lavoro che dovrebbero fare a Maranello in questo momento è quello di veramente riuscire a preparare una qualifica al top. Sicuramente se Ferrari fosse stata più avanti in griglia questa gara sarebbe stata un pochino più differente magari avremmo visto un po' più di lotte insieme a Norris un po' più di lotte insieme a Perez ma così non è stato perché nelle prime fasi di gara abbiamo perso veramente tantissimo tempo trovandoci comunque nel gruppone quando si trova nel gruppone ci sono tantissimi rischi che può essere un contatto, trovarsi nel traffico comunque dover stare in scia che non fa mai bene alle coperture delle monoposto. Un focus molto importante di Maranello deve essere veramente quello della preparazione della qualifica che è il più grande punto debole in questo momento perché con Red Bull non si può assolutamente lottare allo stato odierno e quindi dobbiamo almeno avere la certezza di arrivare in ogni gara davanti a McLaren ma in questo momento e soprattutto con una qualifica così non siamo assolutamente in grado di fare una cosa del genere. Dopo questo piccolo escursus ritornando alla classifica Verstappen, Norris, Perez, bellissimo podio con Driver of the Day, Lando Norris e se lo merita tantissimo ma se lo merita anche la scuderia per la strategia. Leclerc, Sainz, Russell che comunque è riuscito a venire su abbastanza bene mettendosi dietro un Aston Martin un po' meno performante questo weekend soprattutto con una strategia di Alonso che non ha pagato assolutamente. Piastri sì, mediocre come sempre. Hamilton che ha fatto una buona gara però ricordiamoci che comunque le scuderie che si trovano fuori dalla top 10 sono veramente tanto più lente rispetto a quelli della prima parte quindi era abbastanza normale che Hamilton si trovasse in questa posizione. Hülkenberg che si riconferma il primo degli altri essendo comunque sempre tra i primi nella seconda parte della griglia e in questo giro vediamo anche uno con undicesimo e Gasly tredicesimo un Alpine che ha ritrovato magari un pochino più di confidenza con il fondo nuovo ma soprattutto perché ci sono stati tre grandi esclusi. Questi grandi esclusi sono stati Ricciardo, Tsunoda e Bottas. Ora Bottas avrebbe cambiato veramente poco le carte in tavola però diciamo che una variabile in più sarebbe stata fondamentale. Non aver avuto le due V-Carb ha giocato un ruolo fondamentale affinché le due Alpine potessero essere in quella posizione. Purtroppo per il contatto tra Ricciardo e Stroll mi sento abbastanza in dovere di criticare Stroll perché uno chi tampona sempre torto ha maggior ragione sotto Safety Carb ma poi io capisco la fuga del momento, capisco l'adrenalina ma nel Team Radio come fai a dirmi è colpa di Ricciardo? È proprio una cosa veramente assurda. Ti girano sicuramente le scatole per quello che è appena successo io non lo metto in dubbio però Stroll io sono sempre stato dell'idea che da due anni a questa parte non abbia più voglia di di essere lì e di correre in Formula 1 si vede come si comporta in pista e soprattutto fuori. Spero che riesca a riprendersi o trovi la sua strada altrove perché anche nelle categorie minori i primi anni Stroll non è stato assolutamente un cattivo pilota anzi tutt'altro. Mi piacerebbe veramente rivederlo felice e sorridere e magari fare qualcosa di meglio con un Aston Martin che non è da quella posizione in cui arriva lui. Altra V-Carb fuori per un contatto quindi per loro veramente weekend da dimenticare. Vediamo a Miami cosa riescono a tirare fuori visto che l'anno scorso erano andati molto bene in quella pista. Ultima cosa a sottolineare come Ferrari è stata in crisi in questa pista nonostante le due safety car che si possono poi tramutare in una Charles Leclerc si è preso 23 secondi da Max Verstappen. Non è tutta colpa di Ferrari perché Max Verstappen è stato veramente eccelso oggi andando a dare anche 19 secondi a Sergio Perez. Lanciamoci di testa nella parte più tecnica in questo grafico spettacolare di F1 telemetri data vediamo quello che sono tutti quanti i passi gara. Verstappen che apparentemente è veramente imprendibile anche da Perez. Perez che in certe occasioni ha avuto un passo abbastanza simile a quello di McLaren per questo che comunque McLaren bisogna fargli un grande applauso. Possiamo vedere come anche Ferrari rispetto soprattutto a Norris non sia stata assolutamente eccelsa. Da sottolineare un grandissimo passo di Pierre Gasly. Nel grafico del passo gara tra Leclerc e Norris con come sempre Norris in arancione e Leclerc in rosso vorrei andare a sottolineare una cosa. Vediamo come nella prima parte di gara con la gomma gialla primi giri ok Leclerc si è trovato un po' più nel traffico però Norris è stato nettamente superiore. Poi comunque andando a sestarsi un pochino i tempi si sono ristretti ma comunque sempre con un leggero vantaggio di 2-3 decimi a favore di Norris. Una cosa importantissima che vediamo appena iniziato lo stint con la gomma bianca precisamente qua perché c'è veramente una differenza di tempi molto molto alta parliamo di 6-7-8 decimi a favore di Lando Norris. Per i primi praticamente 6-7 giri ciò sta a significare che veramente Ferrari fatica a trovare la finestra in cui questa gomma bianca opera e si vede benissimo in questa situazione e in questo grafico. Ci vogliono veramente tanti giri affinché la gomma bianca entri nella sua fase di azione. E è un problema molto grave questo qua è un problema veramente molto grave dove devono assolutamente trovare la causa e una soluzione anche perché dopo ciò i tempi si avvicinano non sono comunque a livello ripeto c'è stato sempre un gap di 2-3 decimi al giro a favore di McLaren in questo Gran Premio problema che si ripresenta anche con Sainz dove ho aggiunto la linea bianca che è appunto il pilota spagnolo e c'è ancora più divario tra McLaren e Ferrari vediamo che ci sono addirittura dei giri in cui Sainz gira più di un secondo un secondo e mezzo più lento di Norris è veramente tantissimo e questa cosa McLaren è riuscita a fare veramente la differenza. Per dovere di cronaca mi piace andare a sottolineare il divario e il distacco che c'è stato tra comunque Perez e Verstappen con Verstappen in blu Perez in bianco perché in ogni fase della gara Verstappen era nettamente di molto superiore a Perez dove nel momento migliore Verstappen dava veramente più di un secondo un secondo e uno a Perez quindi grande 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 Verstappen con questa macchina si dimostra a ogni gara sempre più forte e sono veramente contento per lui. Andando a confrontare anche Norris e Perez vediamo come la differente strategia della McLaren in aggiunta a quella che è stata la safety car sia stata una svolta fondamentale affinché Norris sia riuscito a surclassare Perez andiamo a vedere in che modo. La linea arancione di Norris comunque in una prima fase di gara è stata molto molto costante come lo è stata anche quella di Perez però Perez si è fermato prima e è riuscito poi con la gomma bianca subito nuova ad andare a migliorare i suoi tempi. Dopodiché è avvenuta la safety car McLaren ne ha approfittata si è fermata e poi una volta avvenuto il sorpasso i tempi sempre nella prima fase della gomma bianca quindi si può dire che è anche un grande punto di forza della McLaren sono riusciti a stare tanto davanti a Perez e questo è stato veramente una cosa fondamentale per andare a completare un pochino il ciclo di quello che è stato detto fino adesso con questo grafico sempre di F1 telemortidata che amo veramente i suoi dati e le sue analisi notiamo ancora di più come ci siano stati questi problemi con la gomma bianca questo qua è veramente la cosa più interessante dove in questo caso Sainz è la linea rossa tratteggiata Leclerc la linea rossa piena Perez linea bianca Norris arancione e vabbè Versa pen blu che è stato assolutamente fenomenale però riusciamo a vedere come veramente Norris ha fatto funzionare immediatamente proprio come Verstappen la gomma bianca portandosi veramente un vantaggio immenso su quello che sono state le due Ferrari quindi veramente 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 fenomenale McLaren in questa gara tornando un secondo a questo grafico vediamo come di base il distacco che c'è stato di passo gara tra Verstappen e Perez è stato all'incirca di 6-7 decimi al giro che per la stessa macchina è un'eternità ancora ribadiamo McLaren di 2-3 decimi più veloce rispetto a Ferrari aspettiamo a gloria il Gran Premio di Miami per forza iniziare a vedere qualche aggiornamento sulla Ferrari dovrebbero già provare a introdurre un fondo nuovo vediamo quelle che saranno le differenze Gran Premio di Miami che si terrà tra due settimane noi saremo sempre qua a commentarlo quindi vi ricordo ancora una volta di iscrivervi a F1 in generale mi sento veramente di fare un grandissimo applauso a Verstappen perché ogni gara si dimostra sempre più forte sempre più dominante ancora un applauso a McLaren che come da aspettative è stata davanti a Ferrari e soprattutto è ciò che mi sarei aspettato fin dall'inizio dell'anno quindi sono molto contento per McLaren devono continuare sulla linea degli aggiornamenti come hanno fatto l'anno scorso praticamente perché c'è veramente una lotta tesissima tra quello che è McLaren e Ferrari per il secondo posto nei costruttori da qui a fine dell'anno ne vedremo sicuramente delle belle sarà un campionato spettacolare da guardare io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi aspettiamo tra due settimane sempre qua per il Gran Premio di Miami vi auguro una buona settimana e grazie ancora a tutti quanti